Secondo step per il progetto sul riuso delle gallerie ferroviarie di smesse che si trovano nel comune di San Nicolarcella. L'amministrazione Mele è pronta a chiedere agli organi regionali e nazionali che gestiscono il patrimonio della rete ferroviaria italiana il comodato d'uso gratuito sia della vecchia stazione che delle gallerie. Strutture che ormai da anni non vengono più utilizzate e che rientrano in un ampio progetto di riqualificazione del sistema viario promosso dall'amministrazione di San Nicolarcella. Le gallerie inutilizzate, detto il vice sindaco della giunta Mele Eugenio Madeo, rappresentano un'opportunità per la mobilità pedonale ciclistica garantendo lo sviluppo di un servizio turistico di collegamento con una rete di narette fra il territorio comunale e le zone costiere. L'obiettivo infatti è proprio quello di facilitare l'accesso alla costa. Con questo sistema di mobilità, hanno continuato dall'amministrazione, favoriremo la nascita dei percorsi pedonali ed escursionistici e avremo certamente ricadute positive sotto l'aspetto paesaggistico, urbanistico ed economico. L'illuminazione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili, concludono da via nazionale, sarà realizzata utilizzando produzioni energetiche da fonti rinnovabili e il fronte mare di notte diventerà ancora più suggestivo. Se l'amministrazione riceverà incomodato le strutture in disuso, presenterà il progetto alla Regione Calabria. L'obiettivo è quello di accedere ai fondi europei. Grazie. Grazie.